Sono due giovani presunti autori dell'incendio che sabato sera ha distrutto in via De Amicis nei pressi della sede Raiabruzzo. Alcune auto e moto è creato danni anche ad altri mezzi, danneggiando le ampioni della pubblica illuminazione. In manette, in flagranza del reato di incendio doloso, sono finiti Viorel Serban, 19enne romeno residente a Pescara, ed Edgar Flacco, 21 anni, di origine bielorusse e residente a Giuliano Teatino in provincia di Chieti. E questa conoscenza diretta per egressi indagini, soprattutto quella per il knockout game commesse quest'estate, ci ha permesso di dare un nome e un cognome velocemente ai due. Quello che possiamo escludere con certezza è che non è stato un gesto di terrorismo a valore simbolico e soprattutto l'altra preoccupazione non era una questione legata al fenomeno del racket o estorsivo. Nella conferenza di oggi lei ha approfittato anche per parlare di un'altra vicenda che non ha nulla a che fare con questa, che riguarda quella di falsi carabinieri che telefonano in case di cittadini. Sì, purtroppo capitano spesso che ci sono dei truffatori che, simulandosi operai dell'Enel, appartenenti alle forze di polizia, carabinieri, magari vanno nelle case, raccontano di fantomatici incidenti al telefono e poi si recano nelle abitazioni e magari si impossessano di oro o denaro. Il vero danno non è tanto quello economico ma è quello psicologico che possono provocare. Quindi invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione e in caso di dubbi contattare il 112 a cui rispondono i carabinieri quelli veri.